Buonasera, vi ritrovate ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione dal territorio. Ancora una morte sul lavoro questa mattina in un'azienda di Chiariano, nel Tredigiano. Un uomo di 58 anni, residente a Calvecchia di Sandona di Piave, ha perso la vita poco prima dell'ora di pranzo, schiacciato da un macchinario usato per sezionare pallelli in legno. Dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo stesse cercando di ripristinare il funzionamento della macchina che per cause ancora da accertare avrebbe ripreso improvvisamente a funzionare, travolgendo l'operaio. I sanitari del SUEM sono immediatamente arrivati sul posto ed hanno cercato in vano di soccorrere l'uomo, ma purtroppo non sono riusciti a salvargli la vita. Il Tribunale di Padova ha imposto il divieto di avvicinamento ad un uomo di 69 anni, residente alla Guizze, ritenuto responsabile dei maltrattamenti nei confronti della madre novantenne. Sentite. Un'importante lesione alla testa aveva costretto un'anziana signora di oltre 90 anni lo scorso luglio a ricovero all'ospedale Santo Antonio di Padova. I medici fin da subito hanno ritenuto la ferita della donna malata di Alzheimer una ferita sospetta e per niente anomala. Proprio per questo la squadra mobile del vicequestore aggiunto Marco Calì aveva avviato delle indagini che hanno portato il giudice del Tribunale di Padova ad emettere un divieto di avvicinamento per il figlio della vittima. L'uomo, un 69enne residente alla Guizze, nello stesso condominio ma in un appartamento diverso dalla madre, è stato ritenuto l'autore dei maltrattamenti verbali e fisici che hanno provocato le lesioni dello scorso luglio. Per accertare il comportamento del 69enne, gli agenti hanno interrogato la badante, nonché alcuni alfamiliari della vittima, che hanno confermato il maltrattamento psicologico, tra cui le minacce di ricovero in casa di riposo e gli episodi in cui perdeva il controllo mettendo le mani addosso all'anziana madre. Quando si dice due piccioni con una fava, gli agenti della squadra mobile di Padova ieri sera hanno arrestato un tunisino per spaccio di droga, a seguito delle numerose segnalazioni che da tempo arrivavano. L'uomo con alle spalle altri cinque arresti per spaccio è stato trovato con 10 grammi di eroina già tagliata. Al momento del suo fermo però inizia a suonare il cellulare e gli agenti approfittano della situazione per beccare qualche cliente. Gli acquirenti continuavano a chiamare ignari di parlare non con il tunisino ma bensì con i carabinieri, che davano appuntamento ai clienti e si presentavano all'indirizzo concordato. Uno dei clienti, una volta capito di essere caduto in trappola, ha cercato di investire uno dei poliziotti e per questo naturalmente è stato arrestato. Panico questa mattina a Mestre, il lungo corso del popolo. Due uomini, uno di nazionalità nordafricana ed uno proveniente da un paese dell'est, hanno iniziato una lissa tra di loro, estraendo catene e coltelli. Sentite. I tanti passanti che giovedì mattina stavano camminando a due passi da corso del popolo a Mestre si sono trovati davanti ad una scena terrificante. Urla, coltelli e tanto sangue. Come siano andati i fatti ancora non è molto chiaro. Fatto sta che un nordafricano ed un cittadino dell'est Europa, intorno alle 9.30 del mattino, hanno iniziato una rissa tra di loro. Sono iniziate a volare parole pesanti, schiaffi, pugni e ad un certo punto uno dei due ha estratto un coltellino e ha sfregiato il viso del suo aventatore. Per alcuni minuti è stato il caos. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto il nordafricano usare una catena per colpire a sangue l'altro. I due hanno continuato a darsele prendendo anche i portaceneri di vetro che erano sopra i tavolini di un bar poco lontano. Il panico è salito quando i due hanno continuato la rissa all'interno del bar facendo volare sgabelli e tavoli sotto gli occhi terrorizzati dei clienti che in quel momento si trovavano nel locale. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia ma i due hanno fatto in tempo a fuggire. I carabinieri stanno cercando di rintracciarli. Da sempre esistono dissapori tra vicini di casa ma quello che è successo ad Albignaso ha dell'inquietante. Il CIP ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Roberto Piccione disponendo il divieto di mora nel comune per un uomo di 61 anni accusato di stalking. Da tempo infatti l'uomo lanciava uccelli morti contro le case del vicinato ma non solo registrava i lamenti dei cani per poi trasmetterli con un autoparlante di notte sotto i cancelli delle abitazioni. Quest'ultimo sconcentante episodio come riportano i quotidiani locali avrebbe convinto le vittime delle sgradevoli provocazioni a denunciare il molesto personaggio. E continuiamo a parlare di stalking. Un uomo di 38 anni di Padova aveva detto alla donna con cui era andato a convivere che nella casa in cui abitavano erano presenti degli spiriti. Sarebbe stato questo come riportano i quotidiani locali il motivo per cui la compagna a pochi passi dall'altare avrebbe deciso di troncare la relazione con l'uomo. L'uomo dopo questa rottura avrebbe cominciato ad inviarle sms e a pedinarla, un comportamento che con il tempo si sarebbe trasformato in un incubo, fino alla decisione di rivolgersi al tribunale che ha deciso per la condanna di un anno a tre mesi dell'uomo. Ci spostiamo nel Trevigiano. Due giovani trevigiani di 28 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Villorba mentre tentavano di compiere un furto in un'abitazione chiusa da qualche anno, da quando il proprietario era defunto. I due sono stati arrestati e saranno processati con un rito di direttissimo. Il doposcuola dei bambini sembra essere diventato un problema per moltissime famiglie. Così a Treviso i genitori di alcuni bambini di una scuola elementare diventano imprenditori e assumono sette maestre disoccupate per far fare i compiti ai loro figli. Sentite di cosa si tratta questa iniziativa. Avere un doposcuola ormai è una necessità per molti ma ottenerlo sembra diventato un vero e proprio problema. Ecco allora che i genitori si inventano una soluzione e si trasformano in imprenditori assumendo a tempo indeterminato maestre che altrimenti non avrebbero un impiego. La formula del fai da te è stata messa a punto e collaudata da un'associazione no profit di Treviso che si chiama Kanguro Fanna creata da un gruppo di genitori. Grazie a questo sistema è diventato possibile assicurare attraverso il lavoro di sette insegnanti la copertura del servizio scolastico nel pomeriggio fino alle 16.30, margine fondamentale per famiglie con entrambi i genitori che lavorano. La Kanguro Fanna ha un bilancio di circa 100.000 euro e i ricavi si limitano esclusivamente alle quote versate dei genitori, 80 euro al mese come indica la tribuna di Treviso o 40 per una copertura ridotta, integrate da qualche piccola attività di autofinenziamento come mercatini occasionali. Delle sette dipendenti assunte con il contratto di categoria 4 sono in pianta stabile e le altre part time, fra queste anche due studentesse neo laureate. Questo servizio, dicono i genitori, era indispensabile per chi lavora fino a sera e non ha la possibilità di lasciare i bambini ai nonni o di pagarsi una babysitter. In questo modo, collaborando assieme, siamo riusciti a garantire un servizio aperto a tutti. I nostri figli sono in completa sicurezza affidati a persone che li seguono sia nei compiti per casa che nell'educazione. Confermato lo sciopero di domani contro la Job Act del governo Renzi. Scuole, servizi e uffici pubblici domani si fermeranno, ma non solo, anche le poste si fermeranno. Sentite i dettagli. Come già annunciato a livello nazionale, continuano ad arrivare segnalazioni di possibili scioperi generali per manifestare contro il Jobs Act presentato dal governo Renzi. A Venezia, venerdì 24 ottobre, è previsto uno sciopero di 24 ore di vaporetti e bus, che creerà inevitabili disagi per i cittadini e turisti che ogni giorno visitano la città lagunare. Storicamente, infatti, le agitazioni promosse dalla sigla USB per quanto riguarda ACTV, mietono sempre consensi elevati. L'iniziativa è stata promossa anche da ORSA e CIB Unico Bus. Nel mirino, le politiche dettate dal governo sul lavoro e la pubblica amministrazione è contro il blocco dei contratti nel pubblico impiego, per l'occupazione e in difesa dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, dichiarano i promotori. Gli autobus del trasporto pubblico saranno garantiti in fasce orarie dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 16 e 30 alle 19 e 30, mentre per il settore navigazione sono previsti i servizi minimi di collegamento. A Ca' Foscari, invece, è garantito alcuni servizi di base, ossia gli esami conclusivi dei cicli di istruzioni, le certificazioni per la partecipazione a concorsi, la salvaguardia degli impianti e degli esperimenti irripetibili in corso, il pagamento degli emulmenti retributivi e la compilazione e controllo delle distinte di versamento dei contributi previdenziali nei termini previsti dell'accordo di contrattazione. Quanto agli orari e alle modalità, lo sciopero varierà di settore in settore. Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha comunicato ad esempio che i sindacati ORSA e USB, in adesione agli scioperi generali di tutte le categorie indetti dalle proprie segreterie generali, hanno proclamato uno sciopero del personale dell'intero gruppo Ferrovie dello Stato, dalle 9 alle 17 di venerdì 24 ottobre. Per il settore pubblico saranno interessati tutto il giorno ministeri, università, ricerca, scuola, enti locali e agenzie fiscali. La CGL del Veneto ha annunciato per venerdì 24 ottobre uno sciopero dei dipendenti delle poste ed una manifestazione che si svolgerà a Mestre davanti alla sede di Via Torino. Il nodo dell'avvertenza, precisano in un comunicato i rappresentanti, sono la cronica carenza di personale e la negazione del confronto sulla ristrutturazione dei centri di meccanizzazione di Venezia, Padova e Verona, che provocherà pesanti ricadute sui lavoratori e sul servizio. I rappresentanti inoltre aggiungono, siamo in presenza di una gestione miope. Esasperatamente è rivolta al ridimensionamento dei costi, che provoca effetti negativi sul fatturato e mette a rischio l'occupazione. Ed ora, prima di concludere il notiziario, diamo uno sguardo alle previsioni meteo di domani. Sereno, poco nuvoloso, salvo possibile, residua nuvolosità ad est e al mattino. Le temperature sono ancora in calo. Per questa sera è tutto, non ho ulteriori aggiornamenti. Non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione e a darvi appuntamento a domani. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.